Le ASL campane devono recuperare le somme erogate alle case di cura in virtù dell'accordo sottoscritto il 28 marzo scorso tra la Regione Campania e l'IOP, Associazione Italiana Ospedalità Privata Campania. Proseguono le indagini scattate a seguito dell'azione della Corte dei Conti che nelle scorse settimane aveva dichiarato lo stop all'accordo dando mandato alla Guardia di Finanza per acquisire documenti e atti negli uffici delle ASL. Contestualmente è stato anche fatto di vieto alle aziende sanitarie di erogare le somme stabilite nell'ambito dell'accordo e laddove già versate di recuperarle. Un'azione che ha portato sulle barricate le strutture private che parlano di impossibilità a saldare il dovuto al personale ed in alcuni casi si dicono pronte a dichiarare fallimento. Diversi punti da chiarire in merito all'accordo scaturito a seguito del blocco imposto dalla Regione Campania nella fase iniziale del Covid a tutte le prestazioni sanitarie ed ai ricoveri nelle strutture, sia pubbliche che private, fatte salve le prestazioni di pronto soccorso, oncoematologiche e ginecologiche. Dato che in Campania gran parte delle strutture private accreditate sono prive di pronto soccorso, si sono ritrovate a dover valutare la chiusura con la messa in cassa integrazione del personale. In alternativa è arrivato l'accordo con la Regione Campania che ha inserito le case di cura nel programma di intervento per l'emergenza Covid a cifre però pare eccessivamente elevate. Intanto l'inchiesta va avanti mentre tutte le asle campane sono impegnate a recuperare le somme già erogate alle case di cura vista la sospensione dell'accordo da parte della Corte dei Conti.